Musica Buonasera e bentrovati alla seconda edizione del TG6 Domani CGL e UGL Trasporti Abruzzo hanno proclamato 24 ore di sciopero in tutta la regione i sindacati contestano le modalità con cui si sta realizzando l'azienda unica del trasporto pubblico locale il servizio da Fredo Primante 24 ore di sciopero domani 7 agosto da parte dei lavoratori del trasporto pubblico locale abruzzese per dire no alla politica della giunta d'Alfonso sul TPL CGL e UGL hanno organizzato due eventi un sit-in alle 10 sotto la regione Abruzzo in Viale Bovio a Pescara e un incontro dibattito con i politici regionali a Teramo alle 17 all'hotel Abruzzi i sindacati degli auto ferro tranvieri contestano soprattutto i tagli al settore meno 10 milioni di euro per il 2015 che significano anche tagli alle corsi e ai servizi poi ci sono le questioni aperte relative alle assunzioni e all'estensione a tutto l'Abruzzo del biglietto unico già attivo nell'area metropolitana di Chieti Pescara Il nuovo trasporto pubblico locale deve puntare al fatto intanto di mantenere fondamentalmente un'azienda pubblica che gestisca il trasporto della nostra regione e poi deve evitare di fare quello che è stato fatto nel passato cioè intervenire sistematicamente sui tagli ai servizi cosa che ha fatto anche l'azienda unica nel cui piano industriale sono previsti appunto tagli ai servizi affidamenti ai privati attraverso le subconcessioni noi queste operazioni le stiamo contestando Altro motivo di scontro tra sindacati e politica è la sangritana e le 35 assunzioni con contratti di somministrazione che secondo i sindacalisti potrebbero costare caro alla collettività Ebbè sì, quello come diciamo noi a photo finish mentre noi stavamo in regione per, stiamo discutendo il contratto il nuovo contratto di Tua sui nastri, sui riposi e quant'altro la stanza a fianco del presidente Di Nardo deliberava in GDA le nuove assunzioni e transazione a 110 mila euro Maxi sequestro di ombrelloni stamane nel tratto di spiaggia libera Martinsicuro carabinieri, guardia costiera e polizia locale hanno ripulito l'arenile di circa 100 ombreggi ed accessori mare lasciati incussuditi la sera antecedente dai bagnanti la legge qualifica l'abitudine di non rimuovere ombrelloni e sdraio come occupazione abusiva di aria demaniale per cui scatta il sequestro e la sanzione per chi viene colto a lasciare dopo il tramonto le attrezzature, il materiale sequestrato sarà distrutto Un 17enne arrestato a tempo di record il presunto responsabile della rapina ad una donna nel pomeriggio di ieri nei pressi della Golena al Sud in zona Pescara Vecchia dopo una serie di perquisizioni eseguite a carico di vari ragazzi i carabinieri del capoluogo adriatico si sono portati in casa di un 17enne che dalla descrizione fornita corrispondeva a quello visto dalla vittima nella collutazione eseguita alla rapina la donna era rimasta ferita nella borsa sottratta c'erano effetti personali alcune decine di euro nella perquisizione sono stati trovati i vestiti che gli investigatori ritengono siano stati usati per la rapina nascosti in un armadio tra i maglioni invernali e ancora intrisi di sudore grazie alle prime dichiarazioni raccolte da quanto successivamente accertato gli investigatori hanno raccolto elementi che hanno consentito di procedere all'arresto del baby rapinatore ora nel calcere minorile dell'Aquila lasciata da possibile, lanciata da possibile il movimento di Pippo Civati è partita anche oggi all'Aquila alla raccolta di firme davanti al Consiglio regionale tra i referendum anche due contro le trivelle sulla costa abruzzese Germana Dorazio è partita oggi in Abruzzo come in Molise, Sicilia e Sardegna la campagna di raccolta firme per otto referendum abrogativi contro le scelte di governo sono otto quesiti, due sulla legge elettorale due appunto contro l'abrogazione delle trivelle sia di un tipo a mare che come carattere strategico quindi dovunque la legge che prevede norme in deroga per le grandi opere altri due sono sul Jobs Act quindi per abrogare il demanzionamento dei lavoratori gli licenziamenti collettivi e l'ultima bella fresca fresca sulla buona scuola per eliminare una delle norme cardine che è quella del preside manager dove c'è previsto appunto questo governo previsto un capo anche nel mondo della scuola che decida un po' tutto basta divano, ritorna sovrano l'Italia non cambia con i like su Facebook firma anche tu per il referendum e questo è lo slogan con cui possibile il movimento politico di Pippo Civati ha lanciato la campagna referendaria nelle regioni italiane davanti ai consigli regionali una campagna referendaria che non abbia colore politico ma come obiettivo solo l'interesse dei cittadini precisa Paolo Dell'Aventura abbiamo fatto anche un appello al presidente Luciano D'Alfonso e anche all'assistore Mazzocca che rilanciamo visto che comunque molte regioni si sono dimostrate contrarie a parole quindi vogliamo andare avanti insieme gli stiamo dicendo presidente andiamo avanti insieme Michele Emiliano per la Puglia ha già dato la sua disponibilità a firmare ha detto che firmerà si è unito anche il presidente ieri il presidente della Calabria quindi cerchiamo di andare avanti insieme con tutto quello che per noi ha fatto questo governo che non va ci spostiamo a Teramo nuovo incontro in comune questa mattina tra l'assessore alle politiche sociali Valeria Misticoni e le famiglie di persone affette da forte disabilità per i tagli sull'assistenza che il comune ha introdotto nei giorni scorsi presenti anche rappresentanti dell'opposizione la protesta delle famiglie di persone con forti disabilità contro la decisione dell'amministrazione Brucchi di introdurre la compartecipazione delle spese assistenziali non accenna a placarsi questa mattina una delegazione era ancora in comune per un incontro con l'assessore alle politiche sociali Valeria Misticoni la discussione è stata animata ma la posizione della maggioranza sull'argomento è rimasta la stessa inamovibile abbiamo detto in accordo con il sindaco che il 25 agosto ci vedremo con una riunione tecnica alla quale inviteremo anche le AS e alcune delle associazioni di disabili per vedere quali sono delle correttivi eventuali e futuri che si possono apportare certo e noi l'impianto del provvedimento insomma c'è e rimane quello di posizione diversa le opposizioni che al termine dell'incontro al quale hanno assistito anche rappresentanti della minoranza hanno fatto sentire la loro voce e rivendicando il diritto da parte delle famiglie di usufruire degli stessi livelli assistenziali avuti fino ad oggi grazie anche a una più razionale al loro dire ridistribuzione della spesa e degli investimenti dei soldi del comune chiediamo all'amministrazione un intervento a doppio binario uno a regime quindi a più lunga gittata che servirà a rimodulare in modo chiaro quelle che sono queste soglie di reddito assolutamente ingiuste e non eque per le famiglie soprattutto chiediamo un intervento immediato per tamponare la situazione emergenziale che si è creata nell'immediato innanzitutto si deve sospendere immediatamente il provvedimento amministrativo anche perché i soldi stanziati ci sono e quindi prendersi un periodo di un mese un mese e mezzo per poi sedersi intorno a un tavolo e fare uno studio serio anche caso per caso per riformulare e rivedere i criteri se effettivamente è necessario se effettivamente bisogna risparmiare delle risorse perché allo stato attuale le risorse ci sono la presidenza dell'istituto musicale Gaetano Braga e alcune convenzioni che riguardano la TEAM sono due degli argomenti discussi questa mattina dal sindaco di Teramo Maurizio Brucchi ascoltiamo sindaco c'è qualche nome che circola con maggiore frequenza ultimamente per la presidenza del Braga? noi abbiamo fatto una terna una terna direi di tutto rispetto dove c'è la dottoressa Paola Di Felice c'è l'avvocato Valente e c'è la dottoressa Rizzi è una terna direi ottima tra l'altro condivisa con tutti gli enti quindi comune di Teramo Comunicino Nova provincia e regione hanno condiviso la terna ora vedremo chi il ministro vorrà nominare però mi sembra che però c'è la professoressa Di Felice che si aggira qui nel comune non è che lei è la favorita? no la dottoressa Di Felice ha un ottimo curriculum si aggira nel comune perché è una dipendente comunale e quindi è giusto che sia qui anche perché credo che debba incontrare l'assessore Luca Antoni che è l'assessore di riferimento non c'è nessun altro motivo oltre questo anche perché non decido io decido il ministro a proposito dell'assessore Luca Antoni rimpasto? non è argomento di intervista e invece della Team di cui avete parlato poco fa? assolutamente è argomento di intervista la Team oggi c'è stata l'ennesima commissione la quarta vorrei dire per un provvedimento che è stato rinviato al 27 di agosto nel pomeriggio dovremo votare per partire poi con la gara oggi c'è stato un altro momento di condivisione per quanto riguarda anche con l'opposizione io auspico che l'opposizione dia un voto favorevole a questo provvedimento perché è un provvedimento negli interessi della città l'amministrazione comunale di Pescara questa mattina ha presentato l'ordinanza con la quale si disciplina il gioco d'azzardo in città negli esercizi commerciali gli esercenti però hanno contestato la razza della norma che li vedrebbe penalizzati rispetto alle sale gioco ascoltiamo tra le polemiche e le proteste degli esercenti il sindaco di Pescara Marco Alessandrini ha presentato l'ordinanza che va a regolare e che intende contrastare il fenomeno della ludopatia l'ordinanza segue un ordine del giorno votato in consiglio comunale e prevede orari stringenti per il gioco in bar ristoranti pizzerie tabacchi e tutti quei locali che non hanno un'autorizzazione esclusiva per l'installazione delle macchinette si potrà giocare dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23 vi sono dei profili di legittimità che ci lasciano intendere come questa ordinanza possa essere migliorata e su cui intendiamo aprire naturalmente un dibattito il tema però di base è quello di fornire una risposta a un male sovente oscuro sovente invisibile nel nostro tempo che però esiste e che ripeto come dicevo prima ha dei costi sociosanitari cui un pubblico amministratore non può essere indifferente quello che proprio non va giù agli esercenti è il doppio binario seguito dall'amministrazione comunale che non ha regolato l'attività delle sale gioco quelle che esercitano l'attività in via esclusiva il sindaco ha spiegato che una ordinanza in questo senso sarebbe stata fragile dal punto di vista normativo non sono dello stesso avviso gli altri esercenti che annunciano ricorsi credo che il sindaco voglia fare un'ordinanza che cerca di aiutare le persone che sono malate in questo ma non è che chiudendo l'attività alle imprese si risolve il problema ha credo che ci voglia un tavolo di confronto immediato subito se poi viene limitata l'attività soltanto ai bar ristoranti e pizzerie e tiene in piedi le sale scommesse le sale gioco secondo me questa è un'ordinanza che rischia di essere impugnata dal TAR e sicuramente qualche giudice darà ragione alle piccole imprese Sindaco e Assessori di Montesilvano si tagliano le indennità del 20% la decisione è arrivata ieri nell'ambito di provvedimento sul bilancio la città adriatica è in seria difficoltà a causa dei debiti Comune sull'orlo del default e bilancio lacrime e sangue questa volta non solo sono i cittadini a pagare ma anche i politici l'Aggiunta Maragno a Montesilvano ha deciso di tagliare del 20% l'indennità di Sindaco e Assessori viene così prodotto un risparmio di circa 140.000 euro troppo poco per sanare le falle milionarie nelle casse comunali ma abbastanza per lanciare un segnale positivo alla cittadinanza Credo che fosse un atto dovuto purtroppo non è un periodo favorevole per l'economia locale anche per l'economia nazionale tutti sono chiamati a fare i sacrifici e credo che comunque l'esempio debba essere dato dal primo cittadino della sua giunta Cosa contiene il bilancio anche per dare contezza ai cittadini di quello che si sta facendo? Contiene le misure necessarie a far quadrare i conti di un comune in grave crisi in grave deficit economico finanziario voglio ricordare che nel giro di una settimana ci sono piovuti addosso da sentenze e debiti per quasi 2 milioni di euro debiti fuori bilancio per circa 3 milioni e mezzo di euro che si vanno a sommare a un deficit strutturale di 3 milioni e mezzo di euro all'anno e ad un deficit globale costituito da debiti per circa 70 milioni C'è un rischio default come è successo a Pescara? Il rischio riguarda tutti i comuni italiani perché purtroppo noi siamo passati da un sistema di contabilità che comportava dei bilanci sostanzialmente virtuali ad un regime di armonizzazione contabile per cui realmente bisogna dichiarare qual è la fotografia dell'ente in questa situazione non si trova a Montesilano ma si trova nel 90% dei comuni italiani Ed ora la pagina degli appuntamenti nel santuario dedicato a Papa Voitila torna la festa nel borgo dal mattino al tramonto E' stato assegnato al sindaco di Assisi il premio della stele di bronzo che caratterizza il tradizionale appuntamento alla Ienca torna infatti domenica 9 agosto la giornata tanto attesa dagli amanti della natura e dai fedeli di Papa Voitila Ci vediamo alla Ienca Quest'anno la festa nel borgo santuario di Papa Giovanni Paolo II sarà pervaso dal gemellaggio ideale tra l'Aquila e Assisi Noi spingiamo affinché si muova qualche cosa e faremo anche delle promozioni a Roma per quando riguarda i turisti che arriveranno da tutto il mondo per visitare la città dell'Aquila e il santuario di San Francesco Il borgo però che aspetta di accogliere migliaia di fedeli non è ancora pronto urbanisticamente carenze strutturali di bagni e parcheggi ancora preoccupano molto l'associazione che lo gestisce Stanno facendo ora i bagni e non ancora sono pronti comunque abbiamo messo i bagni chimici perlomeno c'è qualche cosa i parcheggi i parcheggi ci sono tempi penso molto lunghi perché il finanziamento che fu messo in bilancio proprio da me che ero consigliere comunale è di 3-4 anni fa e non ancora si riesce a portare in porto il progetto dei parcheggi molto importante perché domenica chi verrà su vedrà che non ci sono posti disponibili di parcheggio e la gente si dovrà arranciare sui campi dove può Meno quantità e più qualità si può sintetizzare così lo spirito della quindicesima edizione dello CERNE Baskers Festival rassegna internazionale degli artisti di strada che si terrà a Pineto dal 7 al 9 agosto vediamo Mobetter Band Gino Lanzieri Marco Nieri Jasmine Elascedeme Rashide Cerrano Blues Band Mario Castelnuovo Circo Pacco Goran Kuzminak Paranza Dolione Le Tribù e i Malicanti è questo il parterre di artisti che parteciperanno allo CERNE Baskers Festival la rassegna internazionale che da 15 anni anima CERNE di Pineto nel mese di agosto per l'edizione 2015 saranno 5 le postazioni in cui si esibiranno gli artisti di strada in un mix di tradizione circense ed innovazione legata soprattutto alla presenza della musica è un festival che ha tentato di mantenere comunque la sua tradizione di luogo con più postazioni naturalmente non si può mai prescindere nell'organizzazione da quelle che sono le possibilità economiche però quello che abbiamo tentato di fare è stato di mantenere un livello di eccellenza degli ospiti degli artisti ospiti e anche di guardarci un attimo intorno rispetto all'eccellenza che noi abbiamo nel nostro territorio che nell'ambito diciamo in questo momento della musica sono estremamente importanti e a campo imperatore torna la rassegna degli ovini per il tradizionale appuntamento con la pastorizia e i suoi prodotti migliaia hanno affollato Fonte Macina tra le attività anche una sfolata una sfilata di moda di abiti in lana di pecora Germana Dorazio sono stati 10.500 i capi di bestiame radunati in località Fonte Macina per la 56esima rassegna ovini di campo imperatore un appuntamento immancabile per gli amanti della montagna e delle tradizioni legate alla pastorizia in migliaia infatti hanno affollato la piana di campo imperatore per la mostra mercato delle produzioni tipiche della montagna in giornata poi c'è stata anche la premiazione degli allevatori partecipanti alla rassegna ovini e il concorso dei formaggi ovini e caprini giunto ormai alla 18esima edizione molto apprezzata anche la sfilata di capi di abbigliamento prodotti con lana di pecore locali a cura dell'associazione pecunia sono stata per anni impegnata nella valorizzazione di questa lana e grazie adesso all'associazione pecunia riusciamo a vendere direttamente la lana che viene prodotta dalle nostre pecore in matasse questo ha portato un aumento del reddito di 4 volte superiore rispetto a quello che si aveva in passato alla mostra mercato dei prodotti tipici hanno preso parte gli espositori provenienti da 6 regioni italiane Abruzzo Puglia Basilicata Marche Umbria e Lazio io ho portato 480 capi e sono stato premiato per la partecipazione perché adesso non ci stanno più le premiazioni in base agli animali danno soltanto il primo di partecipazione che razza sono le due pecore le mie sono le merinizate le merinizate italiane iscritte al libro genologico la 56esima rassegna ovini è stata arricchita quest'anno dalla partecipazione attiva del comune dell'Aquila e dei comuni della Baronia Castel del Monte Calascio Santo Stefano di Sessanio Barisciano Carapelle Calvisio Castelvecchio Calvisio Ofena e Navelli con il circuito dei prodotti tipici che avrà il suo gran finale domenica prossima 9 agosto in corso Vittorio Emanuele nel centro storico dell'Aquila con una giornata dedicata alla vendita e alla degustazione delle produzioni tipiche del territorio aquilano torna il prossimo weekend Borsacchio in festa la manifestazione organizzata dall'associazione comitato di quartiere Borsacchio con il patrocino del comune di Roseto degli Abruzzi giunta quest'anno la terza edizione torna quest'anno la terza edizione di Borsacchio in festa tre serate all'insegna di musica cabaret teatro e gastronomia Devo ringraziare per prima l'amministrazione comunale che ci permette ancora per il terzo anno a fare questa manifestazione ci tengo moltissimo a ringraziare tutti i miei collaboratori noi siamo 11 di cui io rappresento la presidenza di questo comitato però senza di loro non potrei fare niente Qual è il programma delle tre serate? il programma è un programma molto importante 8 agosto avremo ospite Uccio De Santis grande cabarettista pugliese ormai famoso in tutta Italia accompagnato dall'orchestra da favola il 9 agosto è la giornata più importante per la quale insomma abbiamo messo in maggior impegno ed è il concerto di Anna Lisa tutti gli spettacoli sono ingresso gratuito quindi anche Anna Lisa che ha inserito Roseto nel suo tour Splendet Tour il 10 agosto concluderemo la festa con il teatro dialettale quindi rispetteremo la tradizione abruzzese con la compagnia d'insieme per San Giovanni quindi vi aspettiamo 8, 9 e 10 agosto al quartiere Borsacchio ringrazio il comitato del Borsacchio per l'impegno che ha messo per aver organizzato tre giorni di eventi molto particolari molto interessanti con personaggi di grosso livello e con un grande sforzo economico e questo ci tengo a dirlo senza sostegno finanziario da parte degli enti pubblici ma con risorse solo che il comitato ha trovato tramite i privati e gli sponsor privati quindi invito anche i cittadini a dare una mano anche acquistando magari un biglietto di lotteria che costa solo un euro e magari tanti euro possano aiutare a sostenere questa bella manifestazione Passiamo ora alla pagina sportiva a sei giorni dal processo davanti alla giudice federale l'avvocato del Teramo Edoardo Chiacchio ha terminato oggi la tre giorni a Teramo per preparare la strategia difensiva insieme ai dirigenti Biancorossi ascoltiamo Avvocato lei ha dichiarato la scorsa settimana che andrà al processo per divertirsi ma sarà proprio una passeggiata di salute il 12 No certamente la salute ho rischiato di perderla in questi oramai due mesi di lavoro e come è una dichiarazione che può essere equiparata a quella di un calciatore che va a fare una finale ed è convinto di aver fatto il massimo e che quindi spera di divertirsi una dichiarazione ottimistica mi divertirò perché darò il massimo e sono fiducioso di poter spuntare in una situazione che in ogni caso rimane complessa ma era molto più complessa prima oggi invece ci sono tanti spiragli che ci consentono di essere ottimisti Le finali si giocano da favoriti o da sfavoriti il Teramo visto che lei ha usato questa metafora come la gioca questa finale? No è vero sa che prima della finale gli allenatori non si sbilanciano mai e dire ad un allenatore che è favorito in genere determina una reazione perché il ruolo di favorito non lo vuole nessuno noi siamo fiduciosi e convinti di portare a termine il nostro risultato che è la partecipazione al Campeonato di Serie B nella stagione 2015-2016 Gli allenatori però a volte non fanno pretattica quelli più coraggiosi danno la formazione lei dopo aver letto in questi giorni tutte le carte e aver tracciato le strategie difensive qualcosa in più di quella che sarà la sua linea a Roma la può dire? No faccio pretattiche strategie più degli allenatori più oltrazisti anche perché i termini per il deposito delle memorie scade lunedì e stiamo ancora lavorando se io sono qui oramai già da due giorni vuol dire che sto lavorando e sto insieme con i miei colleghi che sono venuti da Napoli sto facendo il massimo per arrivare in una condizione di tranquillità al dibattimento facciamo queste ipotesi cancelliamo il fatto che c'è ancora un secondo grado di giudizio poi dopo il 12 di agosto quindi dopo mercoledì prossimo facciamo un salto nel tempo di una settimana spostiamoci a giovedì prossimo senza il secondo grado di giudizio il Teramo tra sette giorni sarà ancora in serie B secondo lei? Io credo proprio I sorteggi per il calendario di serie B si svolgeranno il 25 agosto a Pescara lo ha annunciato il presidente della Lega di Serie B Andrea Abodi è la prima volta che l'evento si svolge nel centro Italia la location è l'Aurum la fabbrica delle idee nella pineta d'Annunziana nei prossimi giorni il Pescara conta di chiudere l'operazione che porterà in bianca azzurro l'estroso attaccante Cristian Galano ma la società sta lavorando anche per piazzare sul mercato gli elementi giudicati in esubero dal tecnico Oddo il servizio di Andrea Costantini potrebbe arrivare nelle prossime ore l'ufficialità dell'arrivo di Cristian Galano il Robben delle Puglie come viene soprannominato è uno dei giocatori richiesti dal tecnico pescarese Oddo che ne apprezza le qualità Galano è ideale nel 4-3-3 come il classico Mancino che gioca a destra ma può essere essenziale anche come trequartista in caso di 4-3-1-2 l'accordo con il giocatore è stato già trovato manca quello tra le società ma ci siamo anche perché il contratto di Galano scadrà il prossimo giugno e gli arrivi di Puskas e Camarà e quello imminente di Bianchi sono ulteriori indizi che portano all'addio al Bari e l'approdo alla Corte del Delfino il pescare tiene poi aperte altre piste per potenziare l'attacco per Diego Falcinelli bisogna fare i conti con la volontà del Sassuolo di non privarsi del giocatore per il bolognese Matteo Mancosu non manca la concorrenza in primis quella del ripescato Brescia difficile l'approdo dell'Atalantino Richmond Boacì che piace parecchio a Oddo ma l'Atalanta preferisce aspettare e non far andare il calciatore garense prima delle prossime due settimane periodo nel quale il Delfino dovrà concentrarsi anche sulle uscite sempre in bilico la posizione dell'albanese Ledian Memuschai qualora l'Empoli affondi il colpo con convinzione il presidente Sebastiani potrebbe cedere il Pescara rischierebbe di perdere un giocatore importante non solo tecnicamente quanto per il peso specifico a livello di leadership in campo nonostante il contratto da poco firmato potrebbe partire il terzino Andrea Rossi non solo per l'abbondanza nel reparto ma anche per la presenza di alcune squadre interessate in particolare il Brescia restano da definire le destinazioni dei giocatori non convocati al ritiro di Palena perché non rientrano nei piani di Oddo Pesoli e Milicevic interessano l'Aquila che guarda con interesse anche Sposito con le valigie pronte anche Scrugli Grillo Barbuti e Nielsen intanto dovrà stare fermo un paio di settimane il difensore Gordon Bunoza per un problema muscolare alla coscia sinistra la partita di Team Cup di domenica prossima alle 20.45 contro il Sud Tirol di Stroppa sarà diretta da Valerio Marini di Roma 1 con un intervento sul sito ufficiale della Virtus Lanciano l'attaccante Pietro Iemmello ha voluto sgomberare il campo da ogni equivoco ho scelto Lanciano dice voglio giocare in Serie B la gara di domenica prossima di Team Cup con la Juve Stabia sarà diretta da Di Paolo Di Avezzano intanto si presentano i nuovi Luca Crecco e Antonio Rozzi ascoltiamo la testa rivolta solo a Lanciano le voci di un addio lampo di Pietro Iemmello sono state cancellate dalle parole dell'attaccante riportate ieri sera sul sito ufficiale della società ho scelto di giocare in Serie B con il Lanciano ed oggi il mio pensiero è rivolto al campo e alla squadra in cui gioco questi alcuni passaggi delle parole del centravanti che nei giorni scorsi era dato come pronto a tornare in Lega Pro a Foggia dove aveva giocato lo scorso anno sarebbe mancato l'accordo tra la società Dauna e lo Spezia che quindi lo ha girato in prestito alla Virtus resistendo a ulteriori tentativi del Foggia il reparto d'attacco così è ricco di elementi e qualcuno dovrà partire De Silvestro o Di Benedetto sono gli indiziati principali per il ruolo di portiere in stand-by Cragno dopo il nome di Pomini le attenzioni del DS Leone si sono concentrate su un giovane di belle speranze si tratta del Laziale Guido Guerrieri classe 96 l'asse con la Lazio è comunque forte come dimostrano le ultime operazioni in entrata messe a segno della Virtus Luca Crecco e Antonio Rozi il primo centrocampista classe 95 viene da una buona stagione con la Ternana ho scelto Danciano perché ho visto che era una squadra che mi voleva fortemente e ho visto che anche c'era un progetto con i giovani mi è piaciuto e quindi ho scelto di venire qui diciamo che sono un giocatore di corsa non tanto di tecnica e mi piace infilarmi sullo spazio e sulla fascia e in cerca di riscatto l'attaccante Mancino classe 94 Antonio Rozi conoscendo anche altri ragazzi che sono di qua e hanno fatto questa esperienza dove è stato anche un trampone di lancio per molti ragazzi e ho pensato comunque di venire qui proprio per questo motivo perché comunque è una bella realtà dove si ha la possibilità anche per i giovani di esprimersi e con la speranza e la volontà di fare il meglio è tutto per oggi prima di chiudere ricordo l'appuntamento di questa sera su TV6 alle 21 la trasmissione velo interamente dedicata al mondo del ciclismo in studio Jacopo Forcella grazie per l'attenzione e buon proseguimento grazie per la visione